Il lavoro su un discusso progetto cinese ha buon punto nell'Ungheria orientale. Nonostante le preoccupazioni della popolazione locale, il sito di oltre 220 ettari produrrà batterie per veicoli elettrici e ci sarà anche un secondo impianto con molte assunzioni previste. Da tempo aumentano le proteste, qui siamo a Debrecen martedì scorso, per i timori che grandi quantità di acqua deviata verso l'impianto possano minacciare l'uso dell'acqua potabile da parte dei cittadini. Oriási mertekű vizet használak fel, elképesztő mertek az energia a szükségletük. És tudni kell, hogy ezek gyakorlatilag összeszerelő üzemek. Il governo di Viktor Orbán auspica che la fabbrica da 7,3 miliardi di euro possa rendere l'Ungheria un'abb globale per la produzione di batterie agli ioni di litio. Ufficialmente il progetto utilizzerá soprattutto acqua e reflue, ma i residenti non ci credono. Ha megnézzük a vizet, Debrecennek nincsen folyóvize, nem bízunk a szürkeviz technológiában, nem látjuk, hogy ez hogy fog megvalósulni. Ha a gyáraknak már megvan adva az ivóvizengedélye, miért használnak föl a szennyezett vizet? Nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, amit hiába kérdezünk, csak sablonválaszokat kapunk. Il WWF dell'Ungheria afferma che mancano studi sull'impatto ambientale delle conseguenze a lungo termine per l'aria, il suole e l'acqua. Prima di procedere con la costruzione della fabbrica servono questi dati, previste nuove proteste.